Ben ritrovati amici di The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo della spumantizzazione. Siano italiane o francesi bevute in occasione di festa o semplicemente per fare un brindisi ben augurante, i vini spumanti sono parte della nostra tradizione e della nostra cultura. Oggi inauguro una serie di puntate che ci porterà a conoscerli più da vicino, partendo oggi con una puntata dedicata a qualche spunto più generale sui vari argomenti che riguardano questo mondo per poi entrare più nello specifico con una puntata dedicata alla storia del vino spumante e puntate sui vari metodi per ottenerlo. Quindi oggi partiamo con una puntata introduttiva e dicendo appunto intanto partiamo dalla prima domanda ma che cos'è effettivamente un vino spumante? Beh, un vino spumante è un vino caratterizzato da una rilevante effervescenza che deriva dalla anidride carbonica presente all'interno della bottiglia. La manifestazione più evidente della presenza della CO2 è la cosiddetta spuma, quindi quella diciamo vista, quelle bollicine, quella leggera schiuma soprattutto che si nota quando si va a versare il vino nel calice. Ecco, il vino spumante è considerato un vino speciale, poi anche qui faremo una puntata sui vini speciali prossimamente, e di fatto si differenzia dal vino frizzante perché ovviamente qualcuno potrebbe dire beh anche il vino frizzante ha delle bollicine. In realtà la differenza è data dalla pressione a livello di bar che è contenuta all'interno delle bottiglie. Difatti, se per un vino frizzante solitamente abbiamo una pressione che va da 1 a 2,5 bar, per quanto riguarda i vini spumanti abbiamo una pressione di almeno 3 bar. Poi vedremo che a seconda delle caratteristiche potremo avere anche delle pressioni più elevate. Poi, altro diciamo mito da sfatare o comunque chiarimento che sicuramente vi potrà essere utile. A volte si parla di spumante e champagne pensando di parlare di due cose completamente diverse. In realtà non è così, per la normativa di fatto anche lo champagne è un vino spumante e quindi non fa differenza la metodologia di produzione, così come all'interno parlando di sempre vini spumanti un prosecco è identico come indicazione di nome o comunque di caratteristica a 1.1 champagne. In realtà quello che si può differenziare è solo il metodo, la metodologia con la quale viene ottenuta la spumantizzazione. Di fatto abbiamo diverse tipologie di metodi che poi andremo ad approfondire, come vi ho detto all'inizio, con delle puntate dedicate. Comunque si parla normalmente di le due più grandi, le due più famose, le più utilizzate sono il metodo classico Champenoise, che è quello appunto tipico dello champagne, oppure il metodo Martinotti Charmant, che è il metodo cosiddetto in autoclave, che è più tipico solitamente del prosecco. Quindi anche qui due modi diversi di ottenerlo, ma di fatto tutti e due sono spumanti. Piccolo cenno storico, anche qui faremo una puntata poi sulla storia dello spumante, ma in realtà se pensate che sia nato con Dom Perignon o comunque con i discorsi legati allo champagne, in realtà non è propriamente così. Di fatto vi erano già dei vini spumanti anche nell'antichità, addirittura ai tempi dei romani. Ovviamente questi vini molto spesso erano ottenuti in maniera del tutto casuale e non voluta, magari per dei difetti o per non aver seguito determinate norme di cantina si ottenevano questi vini spumanti, ovviamente non in maniera voluta, ma un po' casuale. Da qui quindi poi lo sviluppo che hanno avuto questi vini nel tempo. Ricordiamo che solo più recentemente hanno ottenuto la visibilità e la conoscenza che abbiamo oggi. Prima si beveva altro e anche questo lo vedremo nella storia dello spumante. Una tappa però sicuramente fondamentale, almeno a livello italiano, è il 1865 quando i fratelli Gancia, assieme al Conte Augusto di Vistarino, importando del pino nero e senza aggiungere sciroppi, diedero vita al cosiddetto primo champagne italiano. Quindi di fatto a quello che sarà un progenitore dei vari spumanti o comunque che darà conoscenza e fama anche in Italia a questo prodotto che ricordiamo prima non era così utilizzato. Ma anche all'interno delle indicazioni di legge possiamo trovare una differenza sostanziale tra vini spumanti cosiddetti naturali e vini spumanti gassificati o artificiali. Qual è la differenza? Il vino naturale è ottenuto dalla rifermentazione del vino e questa rifermentazione può avvenire in bottiglia, come nel metodo classico, oppure in autoclave, come avviene nel metodo Martinotti Charmant. Invece i vini spumanti gassificati sono dei vini ai quali viene aggiunta dell'anidride carbonica a basse temperature e solitamente, pur essendo legali, nel senso che la normativa europea li prevede, in realtà sono vini meno fini qualitativamente non eccelsi e che quindi solitamente è difficile trovare sui nostri scaffali proprio perché di fatto la loro qualità non eccelsa non ne consiglia l'acquisto. Però ci sono delle realtà dove vengono comunque utilizzati e prodotti. Per quanto riguarda invece la legislazione, la legge diciamo chiave è una normativa dell'Unione Europea, il regolamento c'è 491 del 2009 che di fatto è stato recepito anche in Italia e che suddivide i vini spumanti in quattro grandi categorie. Ovviamente io qui poi ci sono anche delle sottocategorie più specifiche, lo dico magari perché è più esperto o comunque chi più ha dimestichezza con queste legislazioni, qui chiaramente tratterò solo le quattro categorie diciamo principali o comunque più rilevanti da un determinato dal punto di vista anche di quello che possiamo trovare in cantina, supermercato. Quindi parliamo di vino spumante, quindi WS, è di fatto il vino spumante generico non ha particolari vincoli per la sua produzione quindi obblighi non so di tempo di rifermentazione o permanenza sulle fecce. Gli unici due vincoli sono legati alla pressione che deve essere di almeno 3 bar e al grado alcolemico che non deve essere inferiore ai 9 gradi e mezzo. Quindi di fatto se è un vino tenuto da rifermentazione naturale senza però vincoli particolari ecco che abbiamo un vino spumante generico quindi un vino spumante di base se così lo vogliamo chiamare. Abbiamo poi invece il vino spumante di qualità ecco questo è un vino spumante che invece presenta proprio perché è di qualità determinati vincoli alla sua produzione quindi se abbiamo un vino spumante di qualità avremo che per almeno sei mesi se si tratta di autoclave o di nove mesi se abbiamo la rifermentazione in bottiglia appunto ci sarà sarà questa la durata minima del processo di rifermentazione. Vi saranno anche degli obblighi di permanenza sulle fecce quindi proprio a livello regolamentare si parte da 90 giorni e poi si può andare anche in aumento rispetto a a questa a queste diciamo questa durata il grado alcolico dovrà essere di almeno 10 gradi quindi vediamo che un po più alto rispetto al vino spumante diciamo generico e la pressione sarà anche più elevata perché dovrà essere di almeno tre bar e mezzo questo è anche dovuto al fatto che le durate di fermentazione si allungano e quindi c'è una maggiore anche produzione di anidride carbonica. Andiamo poi invece ai vini spumanti di qualità di tipo aromatico questi sono vini che vengono ottenuti dalla spumantizzazione di mosto o mosto parzialmente fermentato di vitigni aromatici come ad esempio il moscato intanto per fare i nomi comuni oppure a volte anche cosiddetti semi aromatici come la glera che è l'esempio classico che viene utilizzato ad esempio per il prosecco. Di fatto qui abbiamo dei vincoli leggermente diversi quindi abbiamo un mese, una durata complessiva di un mese del processo si parla sempre attenzione qui di durate minime quindi poi uno può farlo anche per più tempo però la legge dà comunque dei minimi da osservare 10 per cento di gradazione alcolica e 3 bar di pressione qui abbiamo una pressione leggermente più bassa rispetto a quanto riguarda i vini spumanti di qualità che abbiamo visto prima. Infine vi è l'ultima categoria di cui abbiamo parlato prima cioè i vini appunto gasificati quindi i vini ottenuti per immissione di co2 all'interno della bottiglia o dell'autoclavo insomma dello strumento che si usa per la fermentazione ovviamente anche qui non esistono particolari vincoli se non il rispetto di fatto dei bar di pressione e del grado alcolico quindi anche qui non hanno non sono vini di particolari caratteristiche cambia qui invece solo il metodo con il quale si genera o meglio si aggiunge l'anidride carbonica è un po come l'acqua frizzante come come può succedere con l'acqua frizzante che viene ottenuta per addizione dell'anidride carbonica all'interno dell'acqua minerale ecco più o meno il concetto è lo stesso. Infine andiamo a vedere l'ultimo aspetto per questa puntata che è anche qui particolarmente interessante perché sicuramente vi sarà capitato di leggerlo di vederlo sulle etichette ed è relativa alla classificazione del residuo zuccherino quindi quella sensazione di più o meno dolcezza che noi andiamo a gustare quando beviamo il nostro calice di vino spumante. Anche questa è definita per legge qui abbiamo sempre un regolamento europeo regolamento CE numero 607 del 2009 che dà una categorizzazione dei vini spumanti a seconda del grado zuccherino residuo si parla normalmente di grammi litro di zucchero contenuti al suo interno. Quindi partendo diciamo dalla fascia da quello meno dolce al più dolce avremo il pa dosè o dosaggio zero all'incirca quando ha meno di 3 grammi litro di zucchero di fatto praticamente contiene solo gli zuccheri originari dell'uva non vi è alcun tipo di aggiunto addizione di altri zuccheri o quant'altro quindi è un vino appunto poco dolce o per niente dolce abbiamo poi l'extra brut che è un vino molto secco quindi che si avvicina al pa dosè come sensazione di non dolcezza qui parliamo di punto inferiore ai 6 grammi litro ma ricordiamo superiore ai 3 perché altrimenti saremo nel pa dosè abbiamo poi il brut che è diciamo la categoria più visibile o comunque una delle più utilizzate a livello commerciale che è il secco che quindi abbiamo meno di 12 grammi litro l'extra dry che è un secco però con già una nota un po più morbida un po più dolce e siamo fra i 12 e i 17 grammi litro il dry o il secco che è un po più dolce ecco attenzione al vedete già il secco usato dai francesi rispetto al nostro secco come vedete il secco non è non è il secco diciamo italiano vedete che è una dolcezza un po più alta quindi prestate anche attenzione quando comprate delle bottiglie a leggere bene le etichette per evitare poi di trovarvi delle sorprese o meglio di trovare un vino che non rispetta quello che voi volete degustare quindi dicevamo il dry o il sec che è appena dolce quindi siamo tra i 17 e 32 grammi litro il demi sec che diciamo il lamabile quindi dove abbiamo dai 32 ai 50 grammi litro e infine il dolce quando siamo sopra i 50 grammi litro ecco vista questa carrellata veloce di diciamo tipologie di dolcezza chiamiamole così andiamo a vi do qualche indicazione in merito allora diciamo che il padoseo il dosaggio zero è un dosaggio solitamente riservato ai vini spumanti prodotti con il metodo classico attenzione quando parlo di tendenzialmente non è detto che in assoluto solo loro però solitamente viene utilizzato su queste tipologie per indicare dei vini particolarmente fra virgolette estremi cioè vini proprio per appassionati dove quindi non si vuole sostanzialmente alterare con altri gusti o comunque con la dolcezza il sapore originario dell'uva e del vitigno che viene utilizzato all'interno della bottiglia quindi sono appunto vini che richiedono anche una certa come dire conoscenza preparazione per essere effettivamente apprezzati quando invece parliamo di vini fra virgolette un po più commerciali o più di un po più largo consumo possiamo dire che il metodo classico solitamente si aggira tra il brut e l'extra brut quindi su tipologie un po meno dolci lo charmat o martinotti si invece diciamo ruota più attorno al brut extra dry quindi sostanzialmente se il brut è un po una linea di congiunzione per tutti i due i metodi il classico è un po più girato sulla parte diciamo meno dolce mentre invece lo charmat martinotti sulle parti un pochino più dolci il dry che abbiamo visto prima è una caratteristica quasi solo in uso per gli charmat è difficilissimo trovare uno spumante dry fatto con metodo classico questo appunto anche per le modalità che poi vedremo con cui vengono prodotti i due vini l'extra dry invece ecco nel nel classico è stato inserito per un discorso più di stare al passo con i tempi essendo che il vino spumante è diventato anche molto spesso un accompagno degli aperitivi ecco che si è deciso di farne delle versioni un po più dolci un po meno secche per andare a accompagnare gli aperitivi e quindi avere un vino diciamo più più di facile più beverino ecco diciamo così e che coinvolga un po di più un pubblico più vasto ecco quindi anche come i tempi a volte cambiano le scelte dei produttori arriviamo poi al demisec allora il demisec è un vino che in realtà pur essendo abbastanza dolce paradossalmente è anche uno dei più versatili proprio perché si può abbinare ovviamente con criterio e con scelte oculate sia al dolce che al salato quindi diciamo che da un punto di vista di abbinamenti su a tutto pasto è quello che si presta si può prestare maggiormente proprio per questa diciamo dote di ambivalenza su entrambi i mondi infine parlando dei vini dolci e solitamente questi vini spumanti sono caratteristica e diciamo e rientrano molto spesso tra quelli aromatici solitamente i vini aromatici ad esempio l'asti spumante tanto per fare un nome o cognome solitamente vengono prodotti nelle loro versioni dolci proprio perché i vitigni aromatici si prestano molto all'essere prodotti in questa maniera perché la dolcezza esalta determinate caratteristiche determinati aromi varietali in essi contenuti bene direi che oggi per oggi la nostra puntata termina qui abbiamo fatto una bella panoramica sul mondo dello spumante ma chiaramente non finisce qui abbiamo altre puntate dove andremo appunto a parlare della storia dei metodi e quant'altro se questo video vi è piaciuto un mi piace come sempre è gradito iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e condividetelo con i vostri amici ma soprattutto se avete una domanda in particolare oppure un tema di cui vorrete sentire parlare qui nel canale l'hashtag ask the wine qui sotto nei commenti è a vostra disposizione bene io per il momento vi saluto e ricordandovi che come sempre i minori di 18 anni non devono bere non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e bisogna bere con moderazione ma di qualità vi lascio di nuovo un grande saluto un ciao da francesco e alla prossima puntata di the wine channel